Qui in Albania ho trovato sta strana macchina che voglio assolutamente provare In pratica mi taglia tutto questo e me lo inserisce là dentro No, provamolo subito Step numero uno, inserire cotesto coso in cotesto per tu Ok, step uno è andato Step due, prendere l'ananas Ah, questa è la rovescia, questo è rotto Step tre, inserire l'ananas qua dentro Oh, ma che rumore che è? Ma che è? Sta cosa che sto a fare costa ben 10 euro, interagite Oh, tutto è entrato Ok La mia restart Vediamo tutto il processo E ovviamente quando premo io, non funziona Sta succedendo qua Oh, ma che è? Ninja Fruit Ma già fa No, vabbè Ma che è sta cosa No, vabbè, sto amando Ma ha fatto in tre secondi Ninja Fruit proprio Mi sei ingastretto No, vabbè, no, vabbè Ma lo accannerei qua, ma no, sono un civile Ok, e ora lo devo andare a pagare Tu l'avresti fatto Non è stato felice